Benvenuti alla trentunesima lezione di istituzioni di matematica. Oggi tratteremo la regola di Delupital. Non la dimostreremo davvero perché dimostrare la regola di Delupital è un compito che va ben oltre le nostre forze e gli obiettivi di questo corso. Ricordo soltanto che quando l'ho studiata all'università al primo anno di matematica, il nostro docente ha impiegato due settimane intere di lezioni per dimostrarci la regola di Delupital in tutti i casi e sotto casi in cui essa può essere utilizzata. Quindi 12 ore del corso di analisi 1 sono state dedicate alla regola di Delupital. Ovviamente noi non faremo tutto questo, ma andremo semplicemente a vedere una qualche ragione intuitiva per cui la regola di Delupital funziona e poi enunceremo esattamente cos'è la regola di Delupital e ovviamente la useremo quando sarà necessaria per il calcolo di limiti. La regola di Delupital è una regola che ci permette di calcolare alcune forme indeterminate di limiti, precisamente le forme indeterminate di limiti del tipo 0 su 0 o infinito su infinito. Come vedete ho tratto un fermo immagine da un bel video di Treblu OneBrown e quindi, dato che si tratta di idea intuitiva, andiamo a vedere con i bei disegni di Treblu OneBrown qual è l'idea intuitiva dietro la regola di Delupital. Abbiamo a che fare con un limite indeterminato nella forma 0 su 0, ovvero vogliamo calcolare il limite per x che tende ad un punto A finito, quello evidenziato in rosa nel disegno, nell'ingrandimento del disegno del grafico di F. e G ovviamente è un punto in cui il limite è della forma 0 su 0, ovvero sia f di x sia g di x tendono a 0 quando x si avvicina ad A, quando x tende ad A. Bene, come facciamo allora a calcolare questo limite? Beh, vogliamo calcolare il rapporto tra f di x e g di x, proviamo a scriverci f di x e g di x in qualche altro modo. Quando siamo vicini ad A, che cosa succede? Quando siamo vicini ad A abbiamo che il rapporto, il valore di f è approssimativamente dato dalla derivata di f in A, immaginiamo che la funzione sia definita in A, sia continua e sia anche derivabile, dato dalla derivata di f in A moltiplicata per il delta x di cui ci spostiamo, che nella notazione semplificata di Triglue-Wan Brown ricordiamo semplicemente quel di x. Quindi f, quando ci spostiamo di una quantità delta x piccola da A, è esattamente, la derivata è circa, per essere precisi, la derivata di f calcolata in A per questo delta x. E' analogamente per la funzione g. Il valore della funzione g nel punto x è approssimativamente quanto mi sono spostato da A, questo delta x, per il valore della derivata di g in A. Quindi il rapporto diventa la derivata di f per il piccolo delta x di cui mi sono spostato, diviso la derivata di g per il piccolo delta x di cui mi sono spostato. I due delta x sono in grigio perché ovviamente li possiamo semplificare l'uno con l'altro. Una volta che semplifichiamo questa cosa vediamo che il valore ci viene il rapporto tra le derivate nel punto. Ora, questo dà un'idea intuitiva. E che idea intuitiva ci dà? Ci dà l'idea intuitiva che il limite del rapporto dei valori delle funzioni abbia a che fare con il rapporto delle derivate. Ora, ci serve che le funzioni siano definite, derivabili in quel punto, eccetera, eccetera. Ma vedremo che in realtà possiamo dare una nozione anche se le funzioni non sono definite e derivabili in quel punto. La regola, come abbiamo detto, si chiama regola dell'Hôpital e prende il nome da un ricco francese, il Marchese dell'Hôpital, che aveva nella sua corte Joan Bernoulli, uno dei tanti matematici e fisici della famiglia Bernoulli. Erano ben undici i Bernoulli. E lo pagava, lo manteneva per che lui lavorasse per conto suo e tra le varie cose che ha fatto Bernoulli quando era al soldo dell'Hôpital è stata quella di scrivere un libro dedicato appunto all'Hôpital in cui erano presenti alcune tecniche di calcolo, tra cui appunto questa regola di derivazione, di questa regola di calcolo dei limiti. con questa regola di calcolo dei limiti apparse in questo volume e poi passata alla storia appunto come regola dell'Hôpital. Povero Bernoulli che non ha avuto il nome associato a questa cosa, ma alla fine è stato pagato bene per questo lavoro e ci ha sopravvissuto grazie a questo lavoro. Quanto abbiamo visto grazie a Triblu One Brown ci suggerisce il seguente teorema. Teorema, appunto regola di dell'Hôpital per la forma 0 su 0 quindi ipotesi siano f e g funzioni derivabili tali che il limite per x che tende a un certo x con 0 di f di x sia uguale al limite per x che tende a un certo x con 0 di g di x e sia uguale a 0 dove x con 0 è un numero reale oppure più o meno infinito e inoltre e inoltre sia g' di x diverso da 0 vicino in un intorno come al solito di x con 0 allora abbiamo la seguente cosa se se esiste il limite per x che tende ad x con 0 del rapporto delle derivate di f e di g ed è pari a un certo valore L che potrà essere di nuovo un numero reale oppure più o meno infinito allora esiste anche il limite per x che tende a x con 0 di del rapporto delle funzioni ed è sempre uguale a questo L pertanto la regola di De Lopital ci dà un modo per calcolare il limite il il limite del rapporto di f di x su g di x è una forma indeterminata del tipo 0 su 0 bene allora possiamo provare a calcolare la derivata del numeratore la derivata del denominatore e se il limite di questo nuovo rapporto esiste allora anche il limite precedente esisteva ed era uguale alla stessa cosa vediamo qualche applicazione come esempio esempio vogliamo calcolare il limite per x che tende a 0 del rapporto fra e alla x meno 1 e x questo che cos'è? questo è della forma 1 meno 1 0 su 0 quindi è una forma indeterminata quindi possiamo provare ad applicare il teorema di De L'Hopital teorema di De L'Hopital che ci dice quindi che se questo secondo limite del rapporto delle derivate esiste ed è un valore un numero oppure infinito più infinito anche il limite precedente esisteva e aveva lo stesso valore derivata del numeratore la derivata di alla x e alla x la derivata di una costante è 0 quindi la derivata e alla x la derivata di x è 1 e questa adesso quando x tende a 0 e alla x tende a 1 quindi questo fa 1 ovviamente notiamo che qua abbiamo barato in un certo senso perché motivo? beh perché questa limite qua è esattamente il limite che faccio per calcolare la derivata di e alla x in x con 0 uguale a 0 quindi quindi in realtà il limite che stiamo facendo è quello che ci serve per calcolare la derivata in x con 0 uguale a 0 e per farlo sto calcolando la derivata della funzione addirittura in generale quindi in un certo senso qua stiamo barando ovviamente in realtà nella regola di De L'Hopital non possiamo pensare che ci possa aiutare per calcolare delle derivate perché per calcolare delle derivate semplicemente beh dobbiamo già saper calcolare le derivate abbiamo dei limiti di questa forma però può essere utile in altri casi vediamo un esempio in cui effettivamente non sappiamo già cosa fa il limite quindi la regola di De L'Hopital ci dà una mano limite per x che tende a più infinito di x che moltiplica pi greco mezzi meno arco tangente di x quando x tende a più infinito ovviamente x tende a più infinito mentre l'arco tangente di x tende a pi greco mezzi quindi questo pi greco mezzi meno pi greco mezzi tende a 0 questa è una forma indeterminata attenzione non è una forma indeterminata di tipo 0 su 0 quindi non posso applicare De L'Hopital però posso trasformare un attimo la struttura che ho in modo da trasformarla in una forma indeterminata del tipo 0 su 0 teniamo a numeratore pi greco mezzi meno arco tangente di x che effettivamente tendeva a 0 e portiamo a denominatore quello che tendeva a infinito quindi abbiamo 1 su x al denominatore a questo punto la forma indeterminata è del tipo 0 su 0 e qua possiamo provare ad applicare De L'Hopital applichiamo De L'Hopital se effettivamente questo ci dà un risultato allora lo stesso risultato era valido per questo rapporto e quindi era valido per questo prodotto quindi De L'Hopital ci dice proviamo a calcolare il limite per x che tende allo stesso valore a più infinito del rapporto tra le derivate la derivata di questa è una differenza quindi la differenza delle derivate è una costante scompare meno la derivata dell'arco tangente derivata dell'arco tangente che è 1 su 1 più x quadro derivata di 1 su x o x alla meno 1 è meno 1 per x alla meno 2 questo possiamo portarcelo a numeratore in modo da scriverci le cose in maniera più efficace come prima cosa notiamo che il meno e il meno si possono semplificare e quindi possiamo scriverci tutto questo come x quadro diviso 1 più x quadro questa è una forma indeterminata di tipo più infinito su più infinito per ora non la sappiamo trattare ma in realtà osserviamo che questi sono semplicemente dei polinomi quindi possiamo semplicemente o raccogliere x quadro e semplificare oppure dire beh il limite è lo stesso limite quando vado a più infinito del semplicemente il rapporto tra il monomio di grado massimo i monomio di grado massimo quindi x quadro diviso x quadro x quadro diviso x quadro sono uguali fa 1 e quindi il limite fa 1 e quindi abbiamo trovato che il limite di questo rapporto è 1 quindi il limite di questo è 1 quindi il limite di questo rapporto è 1 per dell'hôpital e quindi il limite del prodotto che stavamo cercando è 1 ed ecco che abbiamo calcolato quanto vale osservazione in realtà dell'hôpital vale anche nella forma se il rapporto è infinito su infinito e quindi sostituiamo all'ipotesi precedente questa nuova ipotesi se invece vale che il limite per x che tende a x con 0 del modulo di f di x è uguale al limite per x che tende a x con 0 del modulo di g di x ed è uguale a più infinito quindi se entrambi i limiti esistono e sono infiniti vale esattamente la stessa cosa se esiste il limite del rapporto delle derivate allora esiste anche il limite del rapporto delle funzioni e questi sono uguali bene ma quindi un altro modo per gestire il questo limite poteva essere ora applicare dell'hôpital nella nuova forma infinito su infinito quindi applichiamo dell'hôpital ancora qua otteniamo il limite per x che tende ad x con 0 di derivata del numeratore è 2x derivata del denominatore derivata di 1 fa 0 derivata di x quadro fa 2x ovviamente tutto ciò si semplifica quindi si divide e resta 1 e quindi il limite altro non è che 1 giustamente lo stesso risultato che abbiamo ottenuto prima né più né meno bene vediamo ora un'applicazione del teorema di dell'hôpital dunque vogliamo provare a calcolare il limite per x che tende a più infinito di e alla x diviso x alla k dove k è un numero intero positivo bene questo quando x va più infinito e alla x va più infinito quando x va più infinito x alla k va più infinito e pertanto abbiamo una forma indeterminata di tipo più infinito su più infinito ma allora possiamo applicare la regola di l'hôpital e quindi derivare e derivando otteniamo che cosa otteniamo il limite per x che va più infinito la derivata di e alla x resta e alla x la derivata di x alla k diventa k per x alla k meno 1 e qua se k meno 1 è 0 questo è più infinito diviso k diviso 1 visto che se k meno 1 è 0 vuol dire che k è 1 e quindi fa più infinito se invece k non è 0 continuiamo ad avere una forma infinito su infinito reiteriamo l'hôpital fino a quando continuando e continuando a derivare arriviamo al limite per x che tende a più infinito di e alla x diviso k per k meno 1 per k meno 2 eccetera eccetera k fattoriale che è il prodotto di tutti i numeri naturali da 1 a k per x alla 0 e alla x su k fattoriale ma questo limite fa più infinito diviso k fattoriale che è semplicemente un numero e quindi fa più infinito questo ci dice che qualunque sia k numero intero abbiamo che e alla x diviso k fattoriale tende e alla x diviso x alla k tende a più infinito la domanda successiva che ci possiamo porre è e se invece abbiamo alfa un numero reale qualsiasi beh allora osservazione prima osservazione se alfa è negativo allora abbiamo semplicemente che il limite per x che tende a più infinito di alla x diviso x alla alfa è semplicemente la stessa cosa che il limite per x che tende a più infinito di x alla meno alfa per e alla x ma in questo caso x alla meno alfa meno alfa è positivo quando x tende a più infinito questo tende a più infinito e analogamente e alla x qua c'è scritto e alla x non è alla alfa come sembrava tende a più infinito pertanto questo limite se alfa è negativo è semplicemente più infinito se invece alfa è maggiore di zero è un numero reale maggiore di zero allora possiamo scriverci alfa semplicemente come la parte superiore di alfa che è un numero naturale meno quello che mi manca che è la parte superiore di alfa meno alfa ovvero questo è della forma n che è un numero naturale positivo quindi è un numero in z più meno un certo valore beta dove questo beta essendo la parte intera superiore di alfa ovvero il numero naturale è maggiore o uguale di alfa il più piccolo numero naturale maggiore o uguale di alfa meno alfa stesso è positivo quindi questo è meno beta è negativo allora il limite per x che tende a più infinito di e alla x diviso x alla alfa è in questo caso il limite per x che tende a più infinito di e alla x diviso x alla n meno beta che posso anche scrivermi come il limite per x che tende a più infinito di e alla x diviso x alla n per x alla beta ma attenzione esattamente come sopra abbiamo che x alla beta esattamente come qua tende a più infinito perché beta è maggiore di 0 e e alla x su x alla n l'abbiamo calcolato prima come prima cosa grazie ad l'hôpital tende a più infinito di conseguenza abbiamo che anche questo rapporto tende a più infinito quindi qualunque sia alfa numero reale positivo o negativo e alla x diviso x all'alfa tende a più infinito l'esponenziale cresce più rapidamente di ogni funzione potenza e questo è esattamente il dramma della pandemia di coronavirus che c'è in atto perché all'inizio della sua diffusione funziona in maniera esponenziale quindi i numeri malati persone in terapia intensive morti crescono in maniera esponenziale e quindi più velocemente di qualsiasi funzione potenza bene allo stesso modo possiamo anche vedere qual è il limite per x che tende a più infinito del rapporto tra il logaritmo e una funzione potenza ora consideriamo soltanto funzione potenza con alfa esponente positivo perché con esponente negativo questa tenderebbe a zero questo tende a più infinito c'è poco da confrontare è ovvio chi va più veloce se alfa è maggiore di zero allora logaritmo di x tende a più infinito x alla alfa tende a più infinito e di nuovo abbiamo una forma indeterminata che possiamo provare a trattare con la regola di De L'Hopital con la regola di De L'Hopital quindi se esiste questo secondo limite il limite del rapporto delle derivate che sto andando a scrivere esiste anche il primo limite quindi il limite per x che tende a più infinito di derivata di logaritmo è 1 su x derivata di x alla alfa è alfa per x alla alfa meno 1 ma questo diventa semplicemente il limite per x che tende a più infinito di 1 qua abbiamo alfa che moltiplia x per x alla alfa meno 1 cioè x alla 1 più alfa meno 1 cioè x alla alfa e questo è semplicemente 1 diviso alfa per più infinito e quindi questo limite fa 0 questo ci dice che il logaritmo cresce più lentamente di ogni funzione potenza di ogni radice quindi abbiamo che per ogni alfa maggiore di 0 il limite per x che tende a più infinito di e alla x diviso x alla alfa è più infinito mentre il limite per x che tende a più infinito del logaritmo di x diviso x alla alfa è 0 le funzioni potenza crescono più rapidamente e mettendo insieme queste due cose abbiamo che il limite per x che tende a più infinito di alla x sul logaritmo di x è di nuovo più infinito l'esponenziale cresce più rapidamente di qualsiasi funzione potenza e le funzioni potenza crescono più rapidamente dei logaritmi ovviamente le funzioni potenza crescenti bene per concludere la parte di oggi concludiamo con un caveat con un warning con un bel segnale di attenzione il la regola di De L'Hopital il teorema di De L'Hopital può sembrare fantastico ma non è la panacea di tutti i mali non risolve tutto vediamo un esempio in cui effettivamente il teorema di De L'Hopital la regola di De L'Hopital non ci permette di calcolare il limite che dobbiamo calcolare in qualche altra maniera calcoliamo il limite per x che tende a più infinito di e alla x meno e alla meno x diviso e alla x più e alla meno x e alla x tende a più infinito e alla meno x tende a 0 quindi il numeratore più infinito meno 0 il denominatore più infinito meno 0 più infinito su più infinito è una forma indeterminata potremmo essere tentati di utilizzare De L'Hopital e possiamo provare a farlo è lecito attenzione ricordiamo che tutte le volte che usiamo De L'Hopital il senso è se poi otteniamo un risultato allora questo giustifica le uguaglianze e effettivamente abbiamo quel risultato se non troviamo un risultato no dobbiamo provare in un altro modo limite per x che tende a più infinito di derivata del numeratore derivata di e alla x e alla x meno derivata di e alla meno x la derivata di e alla meno x funzione composta derivata della funzione esterna e alla resta uguale per la derivata della funzione interna meno x è meno 1 quindi più e alla meno x analogamente sotto la derivata di e alla x e alla x la derivata di e alla meno x è meno e alla meno x e questa di nuovo è nella forma più infinito su più infinito quindi questo non ci fa concludere di nuovo una forma indeterminata proviamo ad applicare dell'Hopital di nuovo se applichiamo dell'Hopital di nuovo qua ci viene il limite per x che tende a più infinito di e alla x più la derivata di e alla meno x cioè meno e alla meno x diviso la derivata di e alla x e alla x meno la derivata di e alla meno x quindi più e alla x e alla meno x e attenzione siamo giunti a dover calcolare esattamente il limite da cui eravamo partiti quindi la nostra cosa non si è semplificata però vogliamo provare a vedere un qualcosa proviamo a vedere un qualcosa supponiamo che questo limite esiste e sia uguale a L allora che cosa abbiamo osserviamo che qua abbiamo esattamente 1 diviso questa funzione quindi questo limite esiste ed è uguale a 1 su L ma se per l'Hopital lo calcoliamo così ed è uguale a 1 su L vuol dire che questo anche questo limite esiste ed è uguale a 1 su L quindi che L è uguale a 1 su L ma se L è uguale a 1 su L vuol dire che L al quadrato è uguale a 1 e quindi L è necessariamente più o meno 1 ma attenzione quando andiamo verso più infinito e alla x se x è maggiore di 0 è maggiore di e alla meno x quindi il numeratore è positivo e il denominatore è sempre positivo quindi questa cosa è positiva per x maggiore di 0 quindi vicino a più infinito il che vuol dire che questo limite L deve essere 1 con questo ragionamento abbiamo calcolato il limite? No abbiamo semplicemente detto che se il limite esiste deve essere 1 che non è poco però non ci permette di concludere che il limite esiste quindi dobbiamo per forza ragionare in qualche altro modo come ragioniamo allora? Ragioniamo in un modo che abbiamo già utilizzato un sacco di volte non c'è bisogno di scomodare la regola di dedopital se sappiamo fare altrimenti questo è il limite e alla x meno e alla meno x diviso e alla x più e alla meno x cos'è che tende a più infinito? e alla x raccogliamo questo e alla x che tende a più infinito e vediamo che cosa succede questo e alla x che moltiplica 1 meno e alla meno x diviso e alla x cioè e alla meno 2x diviso anche qua sotto possiamo raccogliere e alla x che è quello che tende a infinito per 1 più e alla meno x diviso e alla x cioè e alla meno 2x a questo punto possiamo semplificare e alla x e alla x sopra e sotto e quello che otteniamo è e alla meno 2x tende a 0 quando x tende a più infinito e alla meno 2x tende a 0 quindi questo è 1 su 1 ovvero 1 e quindi il limite è 1 effettivamente abbiamo detto se il limite esiste è 1 ma con quest'altro modo che niente ha a che fare con il teorema di De L'Hôpital abbiamo trovato che il limite è 1 quindi il teorema di De L'Hôpital la regola De L'Hôpital può essere comoda per calcolare molti limiti ma attenzione non è l'unico strumento che abbiamo e anzi a volte quello non funziona mentre altri strumenti funzionano attraversi ci sono calmati non è utile e dire んだ